E' Mio Fede cornuto! Pensate che Mio Fede quando ti prendi troppo, mi passi troppo la bocca, adesso, Mio Fede cooo... 750.000 euro, ma come io poi sarò il nuovo sindaco di Roma, ragazzi? Ma non per la poltrona, perché Beppe Grillo è la brutta copia di Mussolini, di Bernosconi. Beppe Grillo vuole fare il Movimento 5 Stelle. Fallo nelle casufole da 200 euro, non nelle lille. Non nelle lille da milioni di euro, quando l'ho incontrato Beppe mi ha detto Polini dopo dopo dopo, questo l'hai scritto nella biografia, meno male. Un selfie, ma pure Papa Grillo se lo fa fare, facciamo sto selfie. Papa Grillo, l'unico, io appena pronuncio Papa Grillo, minchino e bacio la terra che lui calpella. Lui sì, lui sì, non l'altro, non l'altro che io ho conosciuto in una sauna gay, l'altro. Quando ero molto più giovane di Daniel, ecco perché io sono scomodo. Ricordati, ecco perché io sono scomodo. Se tu vai su YouTube e metti Gabriele Paulini, Ariano Irpino, io parlavo a tante persone e dicevo che il signor Azzi ci sarebbe dimesso nel 2010. Allora, due suole cose. O sono matto e un po' lo sono, però c'è anche la razionalità, se no non sarei qui. Oppure qualche cosa, forse, intanto l'idea di un'altra. Se tu vai su YouTube, Gabriele Paulini, Ariano Irpino, vedrai quello che ti ho detto. Grande teologo, anzi, ma grande teologo. Ma tanto, la storia lo ha, la storia lo dirà. Fra cento anni uscirà qualche cosa. Ma fra cento anni. Spade Lombardi, dove ti ho incontrato il portavoce che uomo affascinato? L'ho fede cornuto. Spade Lombardi, dove ti ho incontrato il portavoce che uomo affascinato?